Se lascia un mi piace a questo video troverai un todi! Passa su fifacoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shusha! Il momento che tutti noi stavamo aspettando è arrivato! Sono usciti i todi! Per chi c'è e per chi ci sarà ho il bisogno del vostro culo! Aspè così suona un po' male però Quest'anno è andata così, dobbiamo rifarci E ci rifaremo oggi! C'è Mbappé, c'è Messi, c'è Orlando, ci sono le donne! Non ho mai trovato l'attaccante il primo giorno E quindi per stimolare ho la vestaglia blu Più fortunato di questa vestaglia c'è solo mia figlia Se questo video supererà 30.000 mi piace Facciamo lo spacchettamento guadelli che è quello che facciamo tutti gli anni Ok? Magari i centrocampisti Cioè ragazzi questi hanno già messo i pacchetti da 600.000 Ma voi siete pazzi? Ma come cazzo non ho? Cioè ma manca iniziato, vabbè, vabbè, vabbè Meglio per noi ragazzi Io però andrei a fare i lighting rounds Se i primi lighting rounds sono 7.85 e più Con, vabbè, l'1% di possibilità di trovare l'icona todi I will take it Poi ci sarebbero pure 15 attaccanti, raga Di cui 1.85 e più Sarebbe tipo una roba assurda Proviamo quei 7.85 e più Lo so che tu me punirai perché non ci sto giocando a sto gioco maledetto Vai! Prima pacchetto dei todi! Sì, se 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 apre Eccolo! Niente, non lo schifo Possiamo andare pure tranquilli ragazzi C.O.C. Allora adesso noterete quanti todi, non todi, trovediamo Magul insieme a Ovvio, a Mbappe falso Però meglio così La prima è dei polletti Pure un Militao Ma questi sono scambiabili, vero? Uh, si gode Va bene Calma, calma È il secondo pacchetto quello fortunato Se sa, vai, vestaglia blu No, però Oh Me la ricadate Anche un naggia No, portiere Quanto sta adesso Neuer? 87 Ma che ti è successo? Spero che arrivi uno che lo manda via Ah, ecco, ecco Aspetta, arriva la ragazza Egerberg Attaccante norvegese Vabbè, vabbè, vabbè Tranquil Diogo costa Va bene Quanto costa? Non costarà niente, vabbè La porta Ok Magul mi ha dato prima Trippierre 85 C'è pure Ronaldo il fenomeno dentro ragazzi Però sai che te dico? Io mi apro questi Vediamo se questi qui droppano un po' di più Con gli attaccanti No, ovviamente Portogallo AS Del Milan Ah, vabbè Leao Certo, che sta a dire? Come chi è? Leao Certo, ovviamente Raffone C'è qualcuno sotto? Assolutamente no Sì, ancora lei Oh, senti Sono già due attaccanti norvegesi che mi diri Che me stai a fannusare Oh, bello però, raga Mi sa che me ne tocca apri questi Oh, guarda che roba Meglio sto pacchetto che quello di prima Vabbè, questi qui, raga Fanno una fine orribile Li facciamo volare Guarda, io mi prendo pure una donna, eh Norvegese, mi sa, c'è sta pure Hansen, vero? Madonna, che troll Ti immagini Che fa l'attaccante toti norvegese Ma io lo stesso, eh Niente, raga Non può uscire Non può uscire Attaccante Del Davoswagen Chi sei? Puppa Guarda, era tanta contenta Ragazzi, è arrivato il momento di Fa qualcosa con sta vestaglia, eh Ragazzi, è veramente difficile trovare L'attaccante A meno che Veramente non sei un osculato Incredibile 85 più 7 Me dai qualcosa di buono Me dai qualcosa di Almeno colorato Ma chi è? C.O.C. Lavello È il lavelletto Insieme al lavello Mandala via Mandala via Ancora lei Ma so tre volte che me la dai Basta Ma vaffanculo Oh, se non me dai Olanda Me incazzo tantissimo Ecco il toti, ragazzi Sta qui Sta qui perché è blu Sta qui perché è blu No, però è colorato Ah, no, è IF Manchester City che cos'era? Ah, vabbè Bernardo sotto Vabbè sotto qualsiasi cosa Non so neanche chi c'è De IF Raga Immaginate Giru 86 80 di velocità però Attenzione ragazzi Eh Raga vediamo se Ritorniamo agli attaccanti Tanto noi vogliamo quelli Oh Ah, IF di nuovo Corea AS Sonaldo Vabbè niente di che Perché 87 Almeno ragazzi Gustiamo ste animazioni Capirai Zego Bono per l'SBC Tutti scambiabili Boni per l'SBC Davvero eh Guarda che roba va Io arrivato con questi Dai Stanno a finire i soldi 100 euro se ne sono andati via Con questo pacco Ancora IF Ehm Chi c'è? Tarim the Dream Ah no sotto c'è l'IF Mannaggia che trollata sta roba ragazzi Vabbè IF Non c'è nessuno Mi pare Basta Giruvatene via Maledetti francesi No 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 Non volevo dire maledetti francesi No mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Volevo dire Venite Francia A francesi Anche un ribelli eh Schifo non mi fa No ecco stavo a dire Siamo entrati nell Invece no Portiero black Magari sotto c'è qualcuno Ma non sarà comunque niente Di discreto Ragazzi se viene quella Norvegese che lo manda via Cioè spengo eh Chi è? Vieni Però francese anche lei Hmm Ragazzi Mi sto un attimo a rapa avvocato Mi sto a rapa avvocato No quella Quella è Todi Vabbè vabbè Non ci interessa dei Todi non Todi Dentro la vestaglia blu A portare bene Forza Dai No e dai Basta Up 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 Non lo voglio guardare Dai Passa Ti prego Mi stai a fa soffrire Stop Ti prego Basta Me l'hai data quattro volte Tanto ragazzi è ingolfata la musica Io sento la musica di quando trovi Vabbè Attaccante nigeriano Che c'è Ah Ozyman 88 Guarda mu viene lei Lo caccia eh Ah no Non viene nessuno No ragazzi Mi sa proprio che non me lo dà È blu No Dai Lewandowski No manco Lewandowski Aspetta palleggia con No Ok No perché se palleggiava con quella ragazzi Sto cominciando a flippare il cervello io qui eh Allora ragazzi Stiamo finendo i soldi Vediamo che devo fare eh A me manco l'icon mi dà Dai il cdc del che è Chimic Aspetta 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 Vediamo se sono mannano Chi è questo? Nooo Madonna ragazzi Che male essere Ragazzi ho gli ultimi quattro pacchetti Mi apro quattro attaccanti Dai Niente Inglese Addì Dell'arsenal È la ragazza Ah no è Saga Attenzione No Ah ok Laudaro Martinez No stavo a dire di nuovo Rodri Ma non poteva essere Madonna sarebbe bellissimo Sarebbe bellissimo Raga Bellissimo Francese Vabbè Chiunque sia Non ci interessa Invece Griezmann Griezmann Bello 88 Griezmann ATT quest'anno Allora ragazzi L'ultimo che ci apriamo È l'85 più Poi dopo torniamo Facciamo tutto quello che dobbiamo fare Madonna questo C'ha il 2,7 Madonna Che figo Nooo Ah ok Perché sennò Davvero basta Pure Odicard me l'ha dato Tre quattro volte Dai caccialo Caccialo E segue la norvegese No Brunello No pure lei E vabbè ragazzi Ci sta Torniamo dopo E vediamo che riusciamo a trovare Vediamo che mettono tra un po' E poi ci apriamo I pacchetti questi qui ragazzi Che hanno Attenzione 2,7% Di possibilità Ma guarda Che tanto è O 5% di possibilità dei toti Poi che noi non lo troveremo È un altro discorso Ci devo credere un po' di più Ecco Partiamo con un if Portiere Chi è? O black Va bene E sotto Girù Scommetti Girù Girù Aspettalo Eccolo che arriva Nooo Di marcio Capirai Questo ragà mi ha fatto A stelle strisce Oggi Vabbè Noterete Che ho cambiato la maglietta Ho speso 50.000 crediti Per la maglia dei toti Attenzione ragazzi Che Che bel giacattare Oh decorto Basta Basta norvegesi Basta è sbagliato Ancora norvegesi Perché male che fa Raga È tra l'87 E 89 Però minchia Ma solo io non li trovo Forza Mike Forza Mike Forza Mike Sono 35 Sono blu No Non sono manco colorati Francese Cdc Dai Incologante 86 più 86 Dai Mannatelo via Perché proprio una donna norvegese Perché proprio lui Bah Regà Ma è impossibile Sotto nei commenti Mi conteggiate Quante volte Ho trovato Tegarda Che poi a volte Schippo pure Quindi manco se vedrà Cioè se adesso qua Non c'è sta Olanda E non schifo Ecco Perfetto Inglese Pd Vabbè No ma questi sono scam Raga A me mi esce l'86 Scusate l'ho schippato Poteva esserci un'altra norvegese Cioè a me Non mi troppa uno Ah sì aspettate Mi ha dato un donna ruma Nel pacchetto Quello lì Dai Guardalo Karim the dream Tutto fomentato Insieme a lui qualcuno No Vabbè non posso Di che non mi ha droppato A livello di overhaul Questi sono poi i pacchetti Quelli stupidi Picchetto Per far entrare a Benzema Anzi facciamo entrare a Benzema Picchetto Col todi E E Quanti me ne sta droppate La Saudi Pro League Raga prendo lui Perché tanto se ne va In un SBC Mi dispiace Sergio Però bisogna dire le cose Come stanno Aspè ragazzi Ma qua ci dice 1, 2, 3, 4, 5 Odegaard Ma che cazzo Rola E però La tizia l'ho venduta Oh basta Benzema Raga Ma c'è Ma io Apro un pacchetto Esce Benzema Per forza Dai ma mo l'ho levato Cioè mi sono distratto Ho aperto a caso Benzema Bene eh Bene Però Attaccante francese Non lo so 100 giocatori 83 Squadra dell'anno 26 E io ce provo Raga A 3000 Ma che cosa stai Che mi devo occupare Dai Famo sti 100 giocatori 83 Più Però sono uno scambiabile Quindi sarà un po' Mondezzaio Raga Un po' demonnezza Però a 3000 Me lo prendo Che cos'è Niente IFA Ancora lui Vediamo se sotto c'è qualcosa Ed in gioco E Aspetta raga Porco 2 Tocca a scartare un po' De gente Ed in gioco E girue Dai Madoro Odri ancora E vabbè niente ragazzi Vediamo sotto Qualcosa di buono sotto E no Erano scambiabili Vediamo se possiamo mandarli via Raga Tato Bernardo Tanna così Guarda quanta gente ragazzi Tocca a scartare Ragazzi In fondo Il pad Con il culo massimo Cioè Mi ha dato 200 norvegesi Mi ha dato 200 benzema Io la vedo come insegno del destino Forza Mike Forza Mike Forza Mike No niente Cioè Manco Manco colorati Rodri Rodri Ma dai Pure Rodri L'ho trovato 70 volte Guarda Mo lo manda via L'attaccante norvegese No Diany Sono tutti Tutti doppioni No Raga Non ce sto a credere più Che cosa Ancora devo buttare gente Ah ok Oddio L'ho trovato Invece no Era un prestito Beh Ericsson Così a cavolo Guarda a me che se vuoi rimanere in Scandinavia A me sta bene Dai Blu 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 Almeno colorato No Il portiere la schippo Ragazzi la schippo Ormai Sono avvilito Oddio Me li devo schippa tutti Pure questi altri 50 doppioni su 100 Vabbè ormai è normale È normale Ci salutiamo con questi 31 8,1 Per cento Possibilità di trovare L'icona Dodi Ragazzi Se ne la trovo qua Non so proprio che faccia Sono scambiabili Quindi devi da in testa 700.000 FIFA Points Siamo avvolti dal blu Te prego Yei Fammi strillare Fammi svegliare tutti Vai blu 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 No niente Attaccante Girù 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 Per forza Pochi palleggia Con altro strumento Da porco due raga Però non è possibile Non è possibile proprio E basta E basta 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 Non ce la faccio più raga Me sta a trollare Me sta a trollare male Me sta a trollare Su Pure quella Pure quest'altra Dove andare così Vediamo i toti in prestito Almeno me li dai boni No Almeno dammi Ronaldo Uguali proprio E qua c'è sta check E c'è sta zola Dai Check e zola Let's go Liberi Ma liberi ce l'ho già ragazzi Ah no ancora Toti in prestito Dai Porca 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 Oh Te prego Dammelo adesso Grazie Grazie Ma non è finita Torneremo qua Dele La sicuro troviamo qualcosa Cosa